Ti faccio vedere che cosa ho preparato ieri sera e che cosa è pronto oggi. Ho lessato dei filetti di sgombro, li ho fatti raffreddare, poi li ho puliti, togliendo la pelle, dividendoli a metà e togliendo le poche spine che ho trovato in questa fila. Li ho messi in un contenitore ermetico. In una ciotolina ho mescolato la senape, questa è senape all'ansien, l'olio, il sale, un cucchiaio di aceto, sarebbe perfetto l'aceto balsamico, pepe rosa, foglioline di salvia. Ho versato il tutto sopra lo sgombro, ho messo qualche pezzettino d'aglio grosso così poi si possa togliere. Ho chiuso il contenitore ermetico, l'ho lasciato in frigo per una notte. Prima di servirlo l'ho portato a temperatura ambiente, un po' di prezzemolo e voilà!